signore e signori l'ente regionale teatro di messina vi dà il benvenuto al vittorio emanuele sta per iniziare il secondo concerto della rassegna resta a casa e vieni al teatro i signori spettatori sono pregati quindi di prendere posto sul proprio divano di casa e spegnere i telefonini l'ente vi augura un buon ascolto che la musica abbia inizio grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.